Ok, fermo, fermo così, bravissimo, ok, guardami, bravo, adesso fai, girati un po', ancora ti fermo così, bravissimo, adesso visto che è il tuo momento, fa un po' come se fossi una persona di successo, ok, effettivamente un po' lo sei, dai, adesso muoviti un po', guardami, ok, girati di rato, madonna, questa è bellissima, bravissimo, adesso come se fossi una persona in carriera, togliamo il flash, bravo, ok, guardami, madonna, sei proprio fotogenico al massimo, ok, adesso datti un po' di arie, dai, fai un po' il figo, vai, ok, adesso la persona simpatica, quella che mette un po' allegria a tutti i bambini, ok, perfetto, non so, persona triste, dai, facciamone un po' di verità, tipo, triste, bravissimo, madonna, potresti fare la torre, madonna, gravissimo, non lo so, fai un po' spontaneo, un po' spontaneo, sorridi, madonna, che foto, qua facciamo un book di quelli, madonna, 7000 foto, bravissimo, sì, dai, facciamo ancora 600 così, poi noi facciamo 900 col flash, ok, guardami, guardami, bravo, ok, ok, sorridi, ok, direi che possono andare bene, sì, dai, ancora due, ancora due 100, ok, guardami, fisso così, girati, girati, girati a sinistra, per oggi guarda a me, ok, guarda in alto adesso, guarda in alto, sorridi, vado, persona importante, ok, ok, fai, tipo se fosse un broker, broker di Wall Street, broker di Wall Street, faccia da broker, vado, bravissimo, benissimo, sei stato un genio, Oh, complimenti davvero, eh, babbo, ci vediamo poi alla prossima sessione di foto, e ti mando tutto l'ambaradero, complimenti ancora, grandissimo, ciao, 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 un saluto per i amici di Xtreme Hardware, se siete appassionati di fotografia, oppure vi piace ricevere dei regali, cosa che presumo vi piaccia, potete partecipare a questo nuovo contest, che è quello del mio fotolibro, Cebe, come fate, per partecipare è molto semplice, basta scrivere un commento, sotto il video qua su YouTube, oppure sulla nostra pagina di Facebook, relativa al video, e il commento che riceverà più mi piace su YouTube, riceverà come regalo un buono sconto di 30 euro, da spendere per effettuare il vostro fotolibro personale, Cebe, e invece chi riceverà più mi piace sul proprio commento, su Facebook, riceverà in regalo il fotolibro che abbiamo già creato noi, con all'interno le fotografie, le fotografie fatte dai nostri utenti, e delle immagini relative alle recensioni che abbiamo fatto quest'anno, il nostro contest durerà fino al 13 di dicembre, così almeno avrete anche per le feste entrambi i regali, quindi è molto semplice, vi basta mettere un commento a questo video, e sperare di avere più mi piace, vi ricordo inoltre che se vi iscrivete alla nostra pagina, al nostro canale di YouTube, potete partecipare al contest Lamptron, al millesimo iscritto vi sarà un'estrazione e il vincitore vincerà un controller Lamptron CW611, colgo l'occasione per salutarvi e augurarvi buone feste, da parte mia di tutta la redazione di Extreme Hardware, ciao a tutti!